tutto quello che c'è da sapere sul presidente della repubblica in tre minuti chi è il nostro presidente della repubblica sergio mazzarella nato a palermo è stato politico giurista accademico avvocato quando dura in carica il presidente della repubblica dura sette anni la carica del presidente matterello a scadrette febbraio dove vive il presidente nel palazzo del quirinale posto sull'omonimo colle è stata la residenza del re d'italia 1870 del presidente della repubblica nel 1940 quali sono stati fino ad oggi i presidenti della repubblica italiana enrico de nicola luigi genaudi giovanni gronchi antonio segni giuseppe saragas giovanni leone sanzo pettini francesco consiglia oscar luigi scalfaro carla giovanni giorgia napolitano e sergio mattarella quali sono i compiti del presidente della repubblica il presidente della repubblica è il capo dello stato e rappresenta l'unità nazionale è il garante alla nostra costituzione mi sia del consiglio supremo per la politica estera e la difesa e al comando delle forze armate chi è il presidente della repubblica chi è il presidente della repubblica dai grandi elezioni 630 deputati 315 senatori 6 senato di avvita e 58 delegati regionali quest'anno i grandi elezioni saranno 2009 dove avviene la votazione a montecitorio nella sede del parlamento italiano quanti voti bisogna avere per essere eletto presidente della repubblica il quorum dei primi tre spettini e i due terzi degli aventi diritto dal quarto spettino si abbassa il 50 per cento più uno quali requisiti bisogna avere per essere eletto presidente avere almeno 50 anni ed essere cittadino italiano il voto è segreto si infatti gli elettori entrano nei catafalchi che sono in balcatura in legno quest'anno i catafalchi andranno in pensione a causa del covid cos'è l'incianatiera in cui vengono ai diposti le schede da per voti chi sono i franchi tiratori elettori che si dissogiano dal votare il candidato accogliato dal proprio partito spesso questi votano nomi di personaggi del mio scopato creato usando paltoon grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti